Salve, siamo arrivati, felicemente spero, alla lezione diciassettesima che ancora fa perno sulla famiglia, su questa grande istituzione fondamentale. La famiglia come società di mercato cosa vuol dire? Vuol dire che in fondo la famiglia partecipa, pur essendo evidentemente il microcosmo originario di qualsiasi società globale, partecipa del contesto a cui appartiene, in cui viene inserita, in una società di mercato la famiglia tende ad essere inevitabilmente anch'essa una società di mercato. Ora qui come sempre noi distinguiamo nettamente fra opinioni personali, principi di preferenza privati, anche se vogliamo dire umori, preferenze non motivate e verità scientifiche assodate. Ciò che possiamo dire oggi è che la famiglia ha subito nel tempo, attraverso i secoli, ha subito una evoluzione che si potrebbe paragonare allo smantellamento di una fortezza. Dai tempi della Grecia classica, noi abbiamo citato in altre lezioni Aristotele, la coenonia, cioè la oikos, cioè la casa domestica che diventa oikos da cui economia, che diventa società, più grande società e così via. Noi siamo passati da questo primo nucleo concettuale della famiglia come società, a poco a poco siamo arrivati alla famiglia nucleare, non più estesa, non più allargata, ma la famiglia costituita dai due attori fondamentali di questa istituzione, che la stessa Chiesa, la Chiesa Cattolica, riconosce come i veri ministri del sacramento del matrimonio. Come già abbiamo ricordato, il matrimonio è l'unico sacramento in cui non c'entra il sacerdote, salvo naturalmente il rito, la messa eventuale, poi il fervorino vero edificante ad uso dei novelli sposi. I ministri effettivi del sacramento del matrimonio della famiglia sono i due sposi, sono il marito e la moglie, futuri padri e madri. Naturalmente questo processo di smantellamento di quella che ho chiamato la fortezza famiglia, l'antico famiglia, ha dato luogo dei contrasti, contrasti notevoli, contrasti che vanno anche ricordati. Per esempio, i valori fondanti della famiglia, cosa sono? Sono valori, sono rapporti tra i familiari che hanno valori in sé e per sé, valori affettivi, valori di consonanza interiore. Intendiamoci, non vorrei che con queste mie parole si pensasse alla famiglia come a un idilio. La famiglia è un nodo di sangue che può trasformarsi anche in un nido di vipere, soprattutto quando, come nell'epoca attuale, la famiglia si è ridotta in dimensioni, anzi si riduca soltanto alla coppia. Noi abbiamo usato un termine in altre lezioni piuttosto ad effetto, abbiamo detto che la coppia scoppia. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre nell'antica famiglia estesa, poderale, rurale, sotto l'autorità a volte capricciosa e comunque sempre totalitaria nel senso preciso che opprimeva o non prendeva in considerazione le opzioni di valore dei singoli, mentre in quella famiglia le frizioni inevitabili fra marito e moglie, cioè nella coppia, all'interno della coppia, venivano in qualche modo sbussate, deflesse, mediate e quasi direi annegate o stemperate nella placenta sociale della più vasta famiglia patriarcale. Oggi non è più così. Oggi siamo in una situazione abbastanza contraddittoria che mi permetto di esemplificare richiamandomi ad una pagina famosa del grande filosofo tedesco pessimista peraltro, ma solo fino a un certo punto, Arthur, cioè Arturo Schopenhauer. Schopenhauer parla della coppia come di due porcospini. Se sono troppo vicini si pungono, se sono troppo lontani hanno freddo. Bisogna in qualche modo riuscire a trovare il punto più felice, più positivo di intersezione fra questi due atteggiamenti. Lontani sì ma non troppo, cioè lontani nel senso di salvaguardare, proteggere, rispettare l'identità di ognuno dei due membri della coppia. Vale a dire una soggettività autonoma e anche forte, che è garanzia di autorispetto, di autostima e di stima anche verso l'altro. D'altra parte questa diciamo relativa lontananza non deve escludere il momento fondamentale della unione. Ho detto unione e non va bene. Unione rimanda all'insegnamento paolino, l'insegnamento di San Paolo di duo in carne una, come già abbiamo detto, cioè due esseri che diventano un solo esso. No, non si tratta di far confluire e direi quasi annullare l'uno nell'altro o l'altra nell'uno, no, no, non si tratta di questo. Si tratta più che di duo in carne una, si tratta di una non unione ma comunione di problemi, cioè e quindi comunicazione. Ma qui è il difficile, cosa vuol dire comunicare? Si può comunicare mettendo le cose insieme quando si hanno fondamentalmente delle convergenze su punti e valori fondamentali. Qui c'è la grande sfida della vita di coppia. La grande sfida perché? Perché in fondo anche nel momento in cui la mia scelta venga in maniera diciamo totale, pura, determinata soltanto dalla simpatia che diventa amore, amore che diventa passione, passione che diventa impossibilità di vivere lontano dall'altro, lontano dall'altro membro della coppia, uomo-donna. In quello stesso momento però io posso incontrare delle incomprensioni profonde. La coppia stessa si incrina e non ho termini di mediazione. Nell'antica famiglia allargata c'era sempre la possibilità di parlare, come abbiamo detto, con un cognato, una cognata, con il vecchio padre padrone o con un fratello, con una sorella. Non è più possibile in questo caso perché si è soli. La coppia di oggi è sola nel suo bravo bicamere con cucinino e terrazzino. Vanno a lavoro la mattina e tornano la sera. Mi si dirà, ma questa famiglia che evidentemente vive solo di questo affetto, evidentemente è un fatto molto positivo, non c'è dubbio. Non solo è un fatto positivo. Senza questo nucleo familiare, per quanto ristretto, non esiste società. Anzi, quando in una società si amplia, si allarga l'area del senso di precarietà, l'incertezza del futuro e così via, il primo sintomo quasi certo di questo stato di crisi endemica, cioè molto diffusa, che cos'è? È la caduta dell'indice di procreatività, vale a dire l'inizio di una denatalità diffusa. I demografi ce lo dicono, noi rispondiamo come sociologi che in fondo l'andamento demografico di una società è sinusoidale, un po' su e un po' giù. Però, per esempio, facciamo degli esempi per rendere più concreto il nostro discorso, nella situazione attuale italiana, e non solo italiana, direi europeo-occidentale, ma soprattutto italiana, in una popolazione, in una nazione che era già famosa per invece l'incremento demografico, noi abbiamo oggi un decremento sensibile dal punto di vista demografico. La coppia media italiana, che per essere sostituita nel futuro, diciamo biologicamente, avrebbe bisogno almeno di due figli, e invece ne produce solo 1,2. Interessante. Non solo. C'è un rinvio costante dell'età di matrimonio. È vero, si è allungata la vita, la longevità, l'aspettativa di vita è molto più lunga, diciamo una decina d'anni, però ormai ci si sposa un po' a volte, in media, un po' troppo tardi. Questo che cosa significa? Questo significa in fondo andare incontro a una diminuzione della popolazione complessiva. Qualche demografo con buon fondamento, estrapolando dalle cifre attuali, arriva a dire che nel 2050 forse gli italiani saranno ridotti soltanto a 8 milioni. Intendiamoci, qui non è un discorso di tipo nazionalistico. Io so benissimo, mi rendo perfettamente conto, che la presenza italiana nel mondo resterà, resterà non solo nell'immediato futuro, ma anche nell'avvenire vero, remoto. No, non c'è dubbio. Resterà perché c'è una letteratura, c'è una religione, c'è una presenza, c'è... come diceva il mio amato Stendhal, un autore francese, romanziere, l'autore famoso di Rosse Nero, Rouges Noirs, Stendhal diceva, in Italia la pianta uomo è più vigorosa che altrove, però vigorosa fino a un certo punto sta di fatto che oggi come oggi noi non abbiamo il tipo di fertilità che dovremmo avere, ci sono villaggi che si vanno spopolando. Noi oggi dobbiamo dire e riconoscere, persino con umiltà, certamente con buonsenso, che l'apporto degli immigrati extracomunitari, che può piacere o non piacere, e queste sono, fanno parte delle opinioni personali, dal punto di vista scientifico è una verità assodata e quindi vincolante in senso intersoggettivo, cioè vincolante per tutto, è una verità assodata che gli immigrati extracomunitari regolarmente impiegati, con regolare permesso di soggiorno in Italia, già oggi pagano, pagano con il loro lavoro e le trattenute, pagano le pensioni per gli italiani che si trovano in pensione fuori ormai dal lavoro, questo va riconosciuto. Ma potrebbe essere considerata questa una nota negativa? No, noi ci stiamo muovendo verso un mondo che è un mondo multietnico, multiculturale, multilinguistico e anche multireligioso. Un mondo, la parola non potrà piacere, la uso non come verità scientifica ma come espressione di un principio di preferenza personale. Un mondo meticciato, culturalmente meticciato. E perché questo? Riconosciamolo. Il pianeta si è fatto piccolo. Una volta andare in America con la nave, varcare l'oceano, era una grande impresa, si faceva testamento prima di partire. Oggi una manciata di ore si porta al di là del fiume, non più al di là del fiume atlantico. Non solo, si può fare davvero con poco più il giro del mondo. Ora questa, non solo, le comunicazioni che come vedremo più avanti nel nostro corso sono il nuovo nesso che tiene insieme l'umanità, le comunicazioni ormai elettronicamente assistite, mandano messaggi che vengono captati, ricevuti in tempo reale. Quindi siamo in un mondo ormai che vive in maniera, se mi è consentito di usare un accettivo forse difficile, che lo spiegheremo, in maniera sincronica. Una volta, ma ancora 60 anni fa, fino alla seconda guerra mondiale, lo sviluppo del mondo, quello che si chiamava secondo i grandi filosofi, soprattutto tedeschi, la entwicklung, cioè questo movimento storico che viene evolvendo nel tempo, era concepito come una, diciamo, una successione diacronica di stazioni ferroviarie, in qualche modo. Questa è un'immagine a cui sono molto affezionato. E i grandi intellettuali, si supponeva, i grandi politici, anche i grandi imprenditori, si supponeva che agissero come dei capi stazione, che ci dicevano adesso ci troviamo qui, che so io, alla Tiburtina, adesso andiamo un po' più avanti, sarà all'Ostiense, più avanti ancora si sa Civita Vecchia, e poi via via, Livorno, non è così. La storia, lo sviluppo storico oggi non conosce più movimento diacronico. È in fondo, in essenza, semplicemente una compresenza sincronica. Siamo tutti compresenti. Ciò che accade nel sud-est asiatico, ciò che accade nel Medio Oriente, ciò che accade a Washington, a Berlino, a Londra, immediatamente rimbomba, riecheggia su scala planetaria, a Roma, a Parigi, e così via. Quindi occorre riconoscere che siamo in un momento in cui sembrerebbe che l'apporto originario dei nuclei familiari non sia così importante. Ma non è così, perché la famiglia, per questo ne parliamo, la famiglia resta questo nodo di sangue, abbiamo detto, che è al fondo di tutta l'esperienza sociale. E noi ne parliamo, ne abbiamo già parlato, ne parliamo anche oggi, perché? Perché è la famiglia che si lega alle strutture dei ruoli, allo status, vado a dire alla posizione di relativo prestigio sociale, al potere, alle forme di potere. Da questo punto di vista la famiglia è un fenomeno straordinario, ha indubbiamente dei valori in sé affettivi. Certamente non è del tutto in sincronia con la più vasta società extrafamiliare che è dominata dalla regola della competizione interpersonale, però la famiglia resta fondamentale e molto importante. Da questo punto di vista devo dire che la famiglia come tale può essere studiata all'inizio di qualsiasi ricerca sul potere sociale, sul prestigio, addirittura sulle formazioni politiche e costituzionali di un dato paese. E ci sono degli esempi, degli esempi molto belli. Io mi permetterei di richiamarli, ma prima di arrivare a questi esempi vorrei proprio ricordare come la famiglia resiste anche se il mercato preme alle sue porte, preme cioè alla porta della famiglia. In che senso? Lo studioso che più ci ha illuminati su questo aspetto del problema, forse è il fondatore della scuola di Francoforte, il famoso Max Horkheimer, il quale, dico famosi insieme con gli altri suoi colleghi, di cui menzionerei soprattutto Herbert Marcuse, Eric Fromm e poi Leo Lavantale e alcuni altri. Comunque in uno studio pubblicato in Italia dalla Ute, è un enorme studio, che ho avuto la fortuna di poter curare, che si chiama Studi sull'autorità e la famiglia, Horkheimer cerca di delineare una funzione della famiglia contro il mercato. E almeno nell'epoca in cui scriveva, vale a dire siamo negli anni diciamo 1930-1940, cioè agli inizi, anzi prima della seconda guerra mondiale, io devo dire che la tesi di Horkheimer aveva certamente un suo significato preciso e poteva venire confermata in maniera empirica, cioè scientifica. In particolare vorrei ricordare il concetto fondamentale che usciva da questa ricerca di Horkheimer, vale a dire ci sono molti poteri, i poteri sono dovunque, ma non sono, come oggi direbbe, sosterebbe invece Michel Foucault, uno studioso francese da poco scomparso, non sono ovunque, cioè tutti i rapporti sociali non sono rapporti di potere, perché se il potere fosse dovunque il potere non ci sarebbe più, non avrebbe più senso studiare il potere. In realtà all'interno della famiglia vige a valore, secondo Horkheimer, la dipendenza accettata, e quindi non il potere ma l'autorità, e nel caso migliore l'autorità autorevole. Però quando noi vogliamo studiare il potere anche sul piano economico, culturale, politico, noi forse dobbiamo stare attenti, anche se la famiglia resiste alle pressioni competitive del mercato, noi dobbiamo stare attenti proprio a quella che è la funzione della famiglia. Per esempio, un altro esempio, una ricerca nota e benemerita è dovuta a C. Wright Mills. Mills era un sociologo radicale, molto critico, sempre all'opposizione, di origine texana, che aveva studiato però a Madison nel Wisconsin, insieme con un immigrato tedesco, Hans Goerth. Lui non sapeva, Mills non conosceva, come del resto molti americani, insomma, non conosco lingue straniere, non conosceva il tedesco, ma Goerth era tedesco e Goerth lo ha in qualche modo introdotto allo studio di Max Weber. Ecco dunque che questo autore scrive un libro, pubblica un libro, negli anni 70, intitolato The Power Elite, l'élite del potere. La tesi fondamentale di questo libro, che è diventata verità scientifica, perché non può essere attaccata, è la dimostrazione di come le varie famiglie che fanno parte della, diciamo così, della crema della società, dell'élite, si sposano tra loro. I membri di queste famiglie si sposano fra loro. E noi abbiamo allora, per esempio, faccio un esempio che potrà parere banale oggi, un Eisenhower che sposa un Nixon, ecco, una famiglia Eisenhower che sposa una famiglia Nixon, e così via. Non solo. Searight Mills comprova, studiando attentamente il GOTA, per così dire, cioè il registro delle famiglie più altolocate, riesce a documentare come si sposano fra loro varie élite, l'élite del potere politico, con l'élite economica e industriale, con l'élite militare, con l'élite culturale e ecclesiastica. E quindi questa specie di cuspide, questa cima della società americana è, come dire, punteggiata da due, tre, al massimo quattro élite, tutte interrelate fra loro in base a che cosa? In base ai legami familiari, allo sposarsi fra loro. E' quello che noi abbiamo già notato, cercando di capire il modo di trasformazione, di prosecuzione nel tempo delle famiglie aristocratiche, delle famiglie, diciamo, nobili. In qualsiasi paese c'è una forte tendenza all'endogamia, cioè a sposarsi fra di loro. E oggi ancora dobbiamo anche notare, e questo però è una mia opinione personale, non ancora confermata dalla ricerca, dobbiamo notare che di fronte ai problemi posti dall'incontro con l'altro, vale a dire dai problemi posti da un mondo pluriculturale, per cui non si sa la persona che incontriamo, chi possa essere, per cui c'è una specie di crescente sospettosità nei rapporti quotidiani con l'altro, noi vediamo come oggi ci sia una tendenza omogamica, cioè a sposarsi fra persone che hanno lo stesso livello economico, più o meno lo stesso livello culturale, comprovato dal grado di studio, addirittura a volte la stessa provenienza geografica. c'è una tendenza a non fidarsi più di colui o colei che emerge, viene da lontano, ha un viso un po' diverso, una pronuncia diversa, addirittura una lingua o una religione diversa. E questo è abbastanza strano perché va contro ciò che dicevo prima, cioè mentre siamo in una situazione di compresenza sincronica di culture, religioni, nazionalità e così via, proprio per questo c'è una reazione difensiva al vecchio proverbio, se mi permetto di citarlo, ma è veramente molto vecchio e poi è anche sbagliato, moglie e vuoi dei paesi tuoi. Procediamo con sicurezza. E però è vero che la mobilità spaziale e professionale che oggi dominano comportano che cosa? Il declino delle tradizioni a vite, non c'è dubbio che quando i membri di una giovane famiglia, per ragioni di lavoro e per molte altre ragioni, magari per seguire i figli, eccetera, si spostano facilmente dal punto di vista geografico, dal punto di vista professionale, è chiaro che le antiche tradizioni familiari non vengono più, non possono più essere coltivate come erano una volta, non solo. Abbiamo già detto che il gruppo familiare odierno nella sua forma ristretta, propriamente detta anche nucleare, cioè ridotto proprio al nucleo essenziale, marito e moglie, evidentemente ha già perso storicamente una funzione fondamentale, che è quella produttiva. E che cosa è rimasta la famiglia oggi? E tutti lo dicono, è rimasta la cura dei bambini, l'educazione psicopedagogica, la formazione dei figli. Ma questa formazione dei figli che cosa richiede? In primo luogo richiede tempo, richiede agio, perché non si può far lezione ai bambini che crescono, occorre in qualche modo convivere con loro e rispondere alle domande quando essi ce le pongono le domande. Uno degli errori che oggi si fa, a parte il fatto di non avere mai tempo per, diciamo, spendere un po' di ore con i propri figli, tranne forse che per i weekend, fine settimana, tranne che forse per le vacanze, quando ci sono, e quando però appunto i genitori sono stanchi e vorrebbero rilassarsi. E la cura dei figli è una cura faticante. Io trovo che questa formazione dei figli, in fondo, che l'ultima funzione rimasta alla famiglia nucleare, venga ad essa sottratta. E infatti l'ultima funzione rimasta alla famiglia nucleare, oggi, dopo aver perso la funzione di centro produttivo, e quindi avendo in fondo ancora, però, nelle sue mani, la funzione formativa, anche questa funzione formativa, in fondo, viene declinando, diminuendo. E perché? L'abbiamo accennato altra volta, ma qui dobbiamo in maniera più approfondita affrontare questo problema. Credo che in una società di mercato in cui vale il successo nella carriera occorra nuovamente valutare, addirittura sovravalutare, il lavoro e la funzione della casalinga. Badate! Io so che questo va contro ciò che si pensa oggi da parte del femminismo, da parte di coloro che vogliono, giustamente, la liberazione della donna. E siamo quindi in presenza di un'opinione puramente personale. Quello che però voglio dire è che le donne, in questo momento storico, dovrebbero avere la possibilità concreta di scegliere tra la carriera e l'educazione dei propri figli. Oppure, oppure, questa educazione dei propri figli andrebbe aiutata, in maniera così decisiva da rendere possibile alle donne lavorare fuori di casa e nello stesso tempo però avere un aiuto effettivo dentro casa per l'educazione dei propri figli. E qui, naturalmente, siamo spinti, dobbiamo considerare il grande apporto che potrebbe dare uso incondizionale, e non è detto che lo dia, che potrebbe dare il sistema scolastico nazionale. Ma prima di lasciare proprio la famiglia, io devo ancora spendere una parola su un'altra ricerca che ci riguarda direttamente. Negli anni, nei tardi anni 50, quindi parecchio tempo fa, quasi mezzo secolo, un ricercatore nordamericano, credo legato all'Italia, forse dalla moglie che era italoamericana, Edward C. Banfield. Banfield pubblicò all'epoca una sua ricerca condotta a Montegrano, un nome fittizio, un villaggio dell'Italia meridionale, in cui sosteneva, in base a questa ricerca, che il mancato sviluppo dell'Italia meridionale era dovuto a un eccesso di familismo. Che cosa voleva dire con queste strane parole? Voleva dire ciò che noi sappiamo, voleva mettere in rilievo quella che noi abbiamo sempre saputo essere una grande caratteristica della civiltà mediterranea, vale a dire la preminenza, la forza di un nucleo familiare originario che, a giudizio di Banfield, impediva lo sviluppo economico. E perché? Io mi permetto di richiamare la sua formula, che è molto interessante, e gli diceva che soprattutto gli italiani dell'Italia meridionale, ma anche tutti gli altri italiani dell'Italia centrale e dell'Italia settentrionale, si muovevano e agivano in base al valore etico di ciò che chiamava il familismo amorale. Io più volte gli obiettavo, ma come si può parlare della funzione etica di un familismo amorale, se è amorale non sarà etico, sarà immorale. Lui voleva dire con questa formula che per molti italiani ciò che si fa per il bene immediato, ristretto della propria famiglia è eticamente accettabile, anche se si tratta di evadere le imposte, anche se si tratta di venire meno ai doveri verso l'interesse generale pubblico. Anzi, Benfield sosteneva che proprio il familismo amorale degli italiani rendeva molto debole, addirittura inesistente, il senso dello Stato e il senso di un interesse pubblico che andasse al di là della cerchia familiare. Il suo libro si chiamava in effetti The Moral Basis of a Backward Society, cioè la base morale di una società arretrata, non solo tecnicamente arretrata, io credo che backward, tradotto bene dall'inglese, vuol dire di una società ritardataria, di una società sottosviluppata. Evidentemente la tesi è molto discutibile, è una tesi che in fondo sta a significare semplicemente la grande differenza che ancora oggi noi abbiamo di fronte agli occhi e di cui dobbiamo prendere atto. Da una parte ci sono grandi civiltà, io le identifico come civiltà e culture mediterranee in cui il gruppo familiare originale, i rapporti affettivi, i movimenti sentimentali sono molto forti e sono talmente forti che la stessa famiglia resiste e addirittura a volte emerge come rifugio. Non è un rifugio sicuro. Noi sappiamo che la famiglia soffre almeno direi in secondo grado di tutte le tempeste, gli sballottamenti e le difficoltà della società globale, però la famiglia resta nella cultura mediterranea ha un grande valore, un valore anche positivo. Di fronte alle grandi tragedie nazionali, per esempio, non c'è chi abbia dimenticato la tragedia dell'8 settembre 1943 quando a seguito di una guerra sfortunata, a seguito anche di una certa inettitudine dei gruppi dirigenti, in fondo la società italiana si trova ad affrontare una fase di sviluppo assolutamente angosciosa, senza punti di riferimento. Che cosa risuona sulla bocca di tutti? Che cos'è che salva la compagine italiana? Nonostante il venir meno, il tradimento, l'inettitudine dei centri dirigenti, la famiglia originaria, ciò che risuona sulla bocca di tutti, tutti a casa, si va a casa. E lì c'è questo nucleo. In altre culture, per carità, molto rispettabili, per esempio, nella cultura anglosassone oggi, io posso dirlo anche sulla base di ciò che mi raccontano i miei studenti americani, non voglio dire che la famiglia non esista più, certamente esiste, la famiglia c'è, la famiglia è sempre quella, anzi, soprattutto le famiglie medio-alto-borghesi, le famiglie sono molto interessanti, sempre, non c'è dubbio, però direi che in linea di massima la famiglia nord-americana, la famiglia anglosassone, è come una, mi sia consentito di dirlo con grande rispetto, però, è come una pensione di terzordine a cui si arriva qualche volta, una volta all'anno, dal college, dall'università, da fuori, il ragazzo arriva in occasione del Thanksgiving, cioè del giorno del ringraziamento, o forse a Natale, certo non a Pasqua, insomma, questo è un'altra cosa, non solo, ma è una situazione in cui non c'è mai il problema di dove mettere i vecchi, questo problema c'è anche in Italia, non sappiamo che fare, ma che lì vadano al cronicario è scontato, oppure scompaiono, in sostanza, è una società diversa, è una società, è un modo di capire le cose completamente diverso. Ora, da questo punto di vista, però, allora, come si può utilizzare il concetto famiglia nella ricerca sociologica? Qui c'è un problema abbastanza interessante, perché, secondo un'impostazione tradizionale della ricerca, mi sia consentito proprio una piccola parentesi di indole metodologica, noi, in Europa, soprattutto, sulla scorta, sulla scia, di quella che è stata la tradizione degli studi marxistici, pensiamo e parliamo di classe dirigente, un grande sociologo italiano che noi dobbiamo ricordare in proposito, che non era certamente marxista, era un liberale giolitiano, Gaetano Mosca, elabora per primo il concetto di classe politica, come classe detentrice del potere, e che cosa cerca, che cosa trova, questa sua ricerca, stupenda, arriva a una conclusione che ancora oggi noi dobbiamo tenere ben presente, vale a dire, vale a dire, qualsiasi, sia il regime politico, che può essere oligarchico, monarchico, democratico, e così via, in realtà, ogni stato moderno è governato e diretto da una minoranza, che è la minoranza guidatrice, è la classe politica, e la classe dirigente, naturalmente poi arrivava a dire che la classe dirigente non è solo quella politica in Parlamento, alla Camera, dei Deputati o al Senato, lui intendeva classe dirigente governante e nello stesso tempo influenzante, quindi la classe dirigente in senso lato, contro questa, non direi contro, ma in concorrenza in questa teoria di Gaetano Mosca, noi abbiamo invece le teorie, sempre espresse in maniera molto spiritosa, di Vilfredo Pareto, Vilfredo Pareto, mi pare che Mosca sia morto nel 41, nel 1941, longevo, Pareto invece è morto nel 1920, nel suo trattamento di sociologia generale, contro Gaetano Mosca, il Pareto fa valere il concetto non di classe politica o classe dirigente, ma di elite e questo è interessante perché? Perché questo termine, questo concetto di elite nella ricerca sociologica ha avuto più fortuna che non il concetto di classe dirigente o classe politica per una ragione effettivamente di metodo, perché se uno dice classe dirigente e include politici, include imprenditori, include la cultura e quindi le classi dirigente culturali, può anche trovarsi di fronte alla difficoltà di spiegare come a un certo punto la classe politica passi delle leggi contrarie agli interessi della classe imprenditoriale e economica, così come è avvenuto per esempio in Francia quando il primo Mitterrand, François Mitterrand, c'erano state le nazionalizzazioni, ecco un caso di classe politica che va contro la classe economica imprenditoriale di operatori economici privati, questo non può avvenire con il concetto di elite, perché? Perché il concetto di elite, mentre il concetto di classe politica o classe dirigente è un concetto onnicomprensivo, il concetto di elite o gruppo scelto o diciamo cima diciamo eletta della società consente questo concetto di elite, un grado maggiore di analiticità, cioè io posso distinguere la elite politica, l'elite economica imprenditoriale, l'elite culturale, l'elite ecclesiastica e così via, quindi cosa posso fare? Posso fare quello che ha fatto mirabilmente solo per questo libro, gli altri sono un po' incerto, insomma, si write mills, le power elite, le varie elite a volte sono in contrasto le une con le altre, a volte si fanno concorrenza, ma le varie elite possono anche determinare come dire una tregua d'armi, possono anche intersposarsi, famoso intermarriage, torna continuamente nelle pagine di Mills, e in questo modo danno luogo a delle formazioni elitarie che determinano l'avvenire della società e in particolare prendono cura in maniera efficace dei propri interessi. Mentre il concetto di classe dirigente è un concetto complessivo, molto suggestivo, ma è un concetto paravento, è un concetto in fondo che comprende e copre anzi tutta diciamo la classe che conta in una data società, quindi tutto il vertice sociale. Nel caso invece della ricerca che utilizza il termine elite, noi abbiamo la possibilità di vedere alla fine della ricerca il modo di muoversi, il modo di arrivare a collegarsi le une con le altre delle varie elite. Quindi abbiamo le tre cuspidi o quattro cuspidi della società. La società non ha più una sorta di vertice conglomerato, comprensivo, onnicomprensivo e in fondo non facilmente distinguibile nei suoi vari aspetti. Col concetto di elite noi abbiamo le varie elite e le studiamo una per una e ne vediamo i punti di convergenza e possiamo anche valutarne le eventuali frizioni, le eventuali contrarietà ed allora arriviamo a una concezione della società più direi più matura. Ancora una volta partendo dal microcosmo della famiglia come abbiamo detto da questo nodo di sangue che qualche volta può trasfermarsi in un nido di vipere questo problema questo nucleo partendo da lì noi possiamo comprendere o avviarci quantomeno a comprendere l'insieme dei rapporti sociali cioè l'insieme di tutta la società. in effetti originariamente la famiglia è una insiemità è uno stare insieme per quanto difficile per quanto problematico che ci dà modo di capire poi la insiemità più vasta vado a dire l'insieme delle correlazioni significative che costituiscono nel loro complesso la società umana. L'università telematica internazionale Uninet1 porta i migliori professori dalle aule universitarie direttamente a casa tua con RaiNet1 Sat1 e 2 e internet su www.uninet1.com